Per me non c'è nessun dubbio che qui se non si chiude questa situazione prima o poi ci si può trovare veramente a un grave episodio. Ponte Buriano è stanco, questo è il titolo dell'incontro ospitato ad Arezzo dal quale si comprende tutta la fragilità di questa infrastruttura romanica che secondo i massimi esperti è quella che compare nello sfondo della Monnalisa. A presentare un'ipotesi di progetto alternativo è stato Giovanni Cardinali già ingegnere capo della provincia di Arezzo alla presenza anche del sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli. Il ponte romanico è nella sua seconda fase di restauro che ha evidenziato problemi importanti tanto che non è ancora stato riaperto al traffico. Quando Leonardo è arrivato qua nel 1502 al seguito di Vitellozzo, Vitelli e per conto di Cesare Borgia che voleva queste terre che diventassero parte del suo ducato, il ponte Buriano era quello su cui passiamo oggi. In questi 500 anni, dirò di più, a me non risulta che nella Sette Ponti siano state fatte infrastrutture o strutture o dei miglioramenti tranne qualche spalletta di un ponte, l'asfalto che indubbiamente poi il progresso è questo qua, qualche sbancamento come si è detto prima ma la Sette Ponti è rimasta sempre quella. In Italia non si sta investendo per niente nel territorio ma gli sembra giusto che noi, noi di Castiglione Fibocchi, noi di Castiglione Fibocchi si deve passare su un ponte del 200 che basta che crolli un mattoncino e c'è un restauro che dura mesi e mesi e noi per andare ad Arezzo dobbiamo passare per una carreccia veramente che fa schifo e anche pericolosa, per mesi e mesi.